Buongiorno a tutti, eccoci con un nuovo video su Excel, video in cui vorrei ancora parlarvi di timbrature e vorrei ancora continuare con il prospetto iniziato qualche video fa da prima l'importazione dei dati della temperatura su un file di testo poi la scelta di un file secondo un percorso legato appunto al file system del computer e nel video precedente abbiamo iniziato a fare la distinzione delle timbrature per mese andando a personalizzare il fuoio ottobre dove vi ricordo, vediamo per ciascuna delle giornate ad esempio del mese di ottobre noi, quindi arriviamo fino al 31 ottobre noi andiamo a prendere in automatico da questa tabella che è stata copiata e incollata dall'importazione che avviene invece sul foglio dati andare a verificare quelle che sono realmente le timbrature in questo caso di ad esempio ingresso, nascondiamo la forum se lo ci spaventiamo le timbrature di ingresso e di uscita ad esempio di questa persona, di questo dipendente si chiama danielm, ok? e qua alla fine avevamo poi fatto il totale di quello che andava a succedere come con una funzione se, verificando se c'era una, come si chiama, un mancamento, una mancanza di timbratura o di ingresso e di uscita e quindi ci sconsolava un po'. detto questo, oggi vorrei lavorare ancora sul mese di ottobre, finire questo prospetto, magari estenderlo per qualche altro dipendente e poi andare sulla parte invece gestione dove iniziamo a tirar fuori i dati del singolo mese che poi verranno estesi per quanto riguarda gli altri mesi quindi quello che possiamo fare intanto qua, diamo magari una colorazione a tutto questo magari ci prendiamo ancora qualche riga vuota sino da T, diamo uno sfondo giusto per isolare un po' le persone, magari possiamo dare questo celestino e qua invece per il secondo, poi queste cose le trasciniamo per il secondo magari lavoriamo su un altro colore che potrebbe essere un colore verde ecco alterniamo questi due colori, tali che io cosa faccio, vediamo un po' se posso copiare questi due ok, andiamo magari su copia formato, che faccio, lascio una riga vuota qua e poi avrò un altro copia formato ancora copia, adesso non so quanti sono i dipendenti ma poco ci vuole poi raccontarli quindi ancora copia formato, ok, quindi l'ho fatto quattro volte, quindi avrò una decina di dipendenti detto questo, diamo ancora un aspetto un po' gradevole a questo prospetto possiamo farlo dando magari un bordo o altro faccio queste cose perché normalmente ci dimentichiamo, no? il prospetto diventa poi brutto, non è facilmente comprensibile o altro quindi qua ho dato ad esempio dei bordi spessi, che sono questa funzione qua tolgo la selezione, lo vedete, ok andiamo a isolare magari la parte su e giù quindi ad esempio seleziono le prime due righe faccio qua tasto destro, formato celle andiamo a dare ad esempio, per quanto riguarda sempre il bordo un separatore con una linea tratteggiata in mezzo magari abbastanza spessa e una linea invece molto più sottile per quanto riguarda le colonne dato a tutti ok, questo stesso formato poi, quindi possiamo ancora fare qua copia formato, lo diamo anche giù ok, e vediamo come viene no, non mi piace granché non mi piace granché perché mi ha copiato anche la riga in basso mi ha tolto praticamente questo che invece voglio per tutti e questa riga al centro non la voglio così spessa ma anche queste linee interne non è che mi piacciono più di tanto ma questo poi scegliete voi in base al vostro gradimento quindi formato celle andiamo detto ne ha una linea più sottile sia per quanto riguarda il separatore così che una linea ancora più sottile in verticale ok, questi dati ecco, forse così va già meglio questa linea continua però non mi piace qua quindi che faccio? seleziona ancora ma qua c'è un po' da vestigiare con i vari formati come sto facendo evidentemente adesso quindi andiamo dall'inizio poi non ho il mouse con il touchpad del portatile ancora qui quindi andiamo qua selezioniamo tutto ok ora che ho scelto questi due posso fare un copia formato e andare giù quindi qua sopra e poi visto che è selezionato qua tasto destro formato celle e andiamo a modificare la parte sopra perché voglio comunque un tratteggio un tratteggio tra la parte di su e la parte di giù quindi qua su ecco questo potrebbe essere il nostro prospetto ancora posso dare qua un bordo spesso anche su questo e poi trascinare orizzontalmente in modo tale che questa mia selezione venga copiata e qua ci sia ad esempio il totale delle ore lavorate in un minimo enfatizzato questa stessa situazione poi andate a ricopiarla qua in basso adesso non voglio perdere tempo arriviamo invece alla parte delle formule che solitamente mi piace di più quindi dobbiamo in qualche modo sistemare un po' le cose sistemarle in che senso? beh nel senso che io qua voglio ad esempio un totale delle ore lavorate lavorate posso anche controllo l'invio e robustire un po' la colonna S e qua facciamo ad esempio i giorni lavorati che anche questo potrebbe aver senso io posso escludendo voi festività e qualsiasi altra cosa andare poi a valutare quanti sono i giorni di lavoro l'ho fatto direttamente in maniera diciamo completa da un dipendente all'interno di base per quanto riguarda le ore lavorate beh il gioco è facile perché io farò a questo punto la somma per come ho organizzato il mio foglio la somma tengo schiacciato il tasto maiuscolo shift e mi invoco con la freccia a sinistra la somma di tutte le giornate lavorate a ottobre chiuso parenti stonda contro l'invio e in questo caso mi dice le ore lavorate sono 3 ore 10 certo ha fatto solo una giornata quindi la somma ha un contributo solo di questo per quanto riguarda invece i giorni lavorati cosa dovrei fare? dovrei andare a verificare i giorni dove realmente io ho maturato delle ore di lavoro quindi quando in qualche modo c'è un valore qua all'interno io ne tengo conto e conto 1 tradotto in formula e posso tranquillamente usare la funzione conta.se che agendo su questo intervallo va a valutare il criterio punte virgola tra virgolette il criterio se trovo un valore della cella maggiore di 0 allora sì che tu lo devi contare evidentemente in questo caso ci restituirà giorni lavorati come 1 ok? le ore lavorate sono 3 ore 10 andiamo a verificare questa cosa l'intervallo è abbastanza piccolino ma diamoci da fare nel senso CTRL C copio tutto questo vado qua in basso CTRL V e in qualche modo sto estendendo la mia tabella qua potrei anche questo numero andare a incrementarlo tirando giù quel completamente automatico arriva a 40 timbrature le persone rimangono le stesse quello che posso fare è cambiare i giorni ad esempio quindi qua sino a 20 ad esempio facciamo finta che siano mettiamo scusate la colonna solo la colonna data ovviamente invece di numero andiamo qua a scrivere io voglio la data in cifre quindi sta parlando del 5 10 se qua sotto volessi il 6 10 beh semplicemente dovrei aggiungere 1 a questo numero di conseguenza seleziono tutto faccio 45.205 CTRL invio traduco questa selezione in data in cifre e vedete che ho il 6 10 se la formula funziona come abbiamo già verificato nel video scorso vedete che qua si sta iniziando a popolare anche per le timbrature del 6 10 e di conseguenza il totale delle ore lavorate passa a 6 ore e 21 e invece i giorni lavorati sono passati a 2 quindi diciamo che il nostro prospetto pian piano sta iniziando a prenderlo quello che posso fare ancora che cos'è è ad esempio questa formula che ho appena inserito andare a tirarla giù vediamo se sta funzionando direi di sì no anzi direi di no quindi CTRL Z quindi io che faccio qua prendo questo cino a qua e trascino questo quindi in modo tale che nell'ultima rega selezionata lui va a scrivere la nuova formula calcolata vediamo se questa cosa ha senso direi che sta prendendo piede quindi posso continuare a trascinare ho scappato anche una mano per tutti i dipendenti il calcolo qua sta un po' sta un po' scantonando già CTRL Z qua mi sta cambiando anche la formatazione ok quindi questa cosa sarà da valutare però poi la posso rimettere non è quello il problema quindi stavo dicendo prendo questo trascino sotto ne lascio 4 vuote dopodiché mi mette questo qua ha la formula praticamente per tutti i dipendenti bene poi adesso andremo a caricare i dipendenti perché qua è tutto vuoto tranne i primi due che hanno ovviamente gli stessi valori perché ho usato le stesse puntate cosa vogliamo fare di questi valori? poi completeremo per gli altri dipendenti ma intanto andiamo a costruirci un prospetto che poi ci darà il risultato del totale di quello che sto misurando mese per mese questa parte la facciamo magari in gestione dove in gestione posso mettere che so il mese di ottobre poi magari metteremo dei pulsanti personalizzati o altre idee ma le ci ruperemo magari più avanti siccome sto trattando il mese di ottobre qua vado a scrivere ottobre siccome sto trattando il dipendente che nel primo caso scusate nel primo caso è Daniel M in gestione qua scriverò Daniel M ok qua voglio ad esempio il totale di ore lavorate quindi scriverò uguale vado a prenderle dal mese di ottobre per Daniel M il totale di ore lavorate sono queste posso anche bloccarle con F4 poi capiremo magari il perché qua sarà il numero di giorni lavorati quindi ancora uguale vado su ottobre e vado a prendermi i giorni lavorati che sono questi anche esso bloccato con F4 contro l'invio e torniamo qua voglio le ore quindi qua sopra scrivo ora e va bene 6 ore 21 e 28 che è il totale di quello che è diciamo che questo prospetto a questo punto qua posso eventualmente che so centrare tutto orizzontalmente e verticalmente per dargli un po' uno stile dargli un colore insomma quello che vogliamo dicevo lo devo estendere per gli altri dipendenti quindi sulla parte controllo posso anche andare a capire ma chi sono i dipendenti io adesso da qua non lo vedo ma sfruttiamo ancora Excel io scrivo dammi per favore i dati unici di che cosa dell'intervallo C quindi qua cosa trova trova tutti i dipendenti praticamente unici sono Daniel M Michele C Luca Ornella G e così via ok quindi se io vado a prendermi qua niente quasi mi devo copiare anzi scusate quindi andiamo su gestione Daniel M sì il secondo è Michele C Michele C poi avremo Luca A poi avremo Ornella G e Matteo C Ornella G mi sono già dimenticato Ornella G e Matteo C ok Matteo C ok dopo di che avremo ancora Valentin e Monica M Valentin e Monica M poi abbiamo Alessand e Mauro N Alessand Mauro M N N scusate e Moreno D Mauro N Moreno D ok questi sono tutti i miei dipendenti quello che deve succedere a questo punto che per Michele C abbiamo già visto qualche cosa su ottobre ok che sono rispettivamente in AS12 quindi sto passando da mettere quelli precedenti che erano riferiti a Daniele M che stava in AS6 in AS12 quindi sto aggiungendo 6 semplicemente per andare sul client sul lavoratore successivo ok quindi sto aggiungendo 6 tradotto perché mi serve questo? perché io posso pensare di usare la stessa formula che ho usato rimane la stessa quindi posso tranquillamente trascinare per tutti quindi posso trascinare per tutti l'unica cosa che devo capire è che qua non sta andando sul 6 ma sta andando sul 12 tasto tab 12 ancora e 6 diciamo che va su 18 18 e 6 fa 24 24 e 6 fa 30 30 e 6 fa 36 36 e 6 fa 42 48 48 48 48 54 e 54 e 6 fa 60 se non ho sbagliato la situazione dovrebbe essere a questo punto corretta stessa cosa per quanto riguarda le ore lavorate a T6 ne aggiungo anche altre 6 e va a 12 poi va a 18 poi va a 24 poi va a 30 36 42 48 50 4 e finalmente 60 quando andrò a riempire adesso per le altre persone con altre timbrature e quant'altro vedremo come questo file questo foglio che si chiama gestione si andrà a riempire torniamo un attimo al mese di ottobre e vediamo di prima di andare magari a trascinare a fare altre cose di serie di altri dipendenti volevo fare un altro passaggio il passaggio è questo mi è stato chiesto di evidenziare la situazione in cui mancano delle timbrature e quindi in qualche modo devo cercare di segnalare un'anomalia questa anomalia come la possiamo trovare? beh se uno fa ad esempio due timbrature al giorno quindi si dimentica di timbrare un ingresso e l'uscita succede che una di queste viene a mancare ok? se uno fa tre timbrature ingresso e uscita ingresso evita di timbrare l'uscita la quarta timbratura o qualsiasi altra combinazione di queste situazioni qua io mi ritrovo a avere un numero di spari di timbrature siccome lui le mette vi ricordo in base alla funzione aggrega e in base al parametro k che si incrementava nella funzione piccola diceva qua metti il più piccolo qua metti il secondo più piccolo tutte queste andranno via via a scalare verso l'altro ve lo traduco in maniera molto molto semplice la mia idea è questa io applico qua una formatazione condizionale tale che diventi rossa questa cella quando io trovo una timbratura nella riga immediatamente precedente ma quella successiva è vuota quindi ho timbrato un ingresso e manca l'uscita segnalamelo oppure ho timbrato l'uscita ma veramente sempre qua al primo posto e quindi mi manca comunque un ingresso tradotto facciamolo per una cella poi vediamo se funziona lo estendiamo su tutte andiamo sulla formatazione condizionale andiamo a creare una nuova regola che utilizzo una formula per determinare le celle da formatare quando è che devo in qualche modo formatare la cella? quando dicevo ho una riga precedente piena e la riga successiva vuota tradotto uguale due condizioni quindi uso la funzione E grande di Excel cosa dice la funzione E grande? ma semplicemente metto in relazione con un end logico ok? due condizioni e se entrambe sono verificate mi applica la formatazione condizionale quando è che queste due condizioni quali sono queste due condizioni che devono essere verificate? beh nel nostro caso succederà che la riga 27 non so se si vede non è 27 ma è la riga 3 aspettate faccio un po' di spazio quindi che questa cella in qualche modo anzi no scusate che questa cella precedente M2 sia in qualche modo diversa da V8 cioè c'è qualcosa dentro punte virgola se contemporaneamente la riga sotto invece è vuota quindi uguale a vuoto allora devi in qualche modo colorarla facciamo qualcosa di visibile quindi possiamo fare un riempimento ad esempio rosso così è bello visto ancora però prima di chiudere la formula vorrei che ragionassimo un attimo insieme perché? perché io poi questa funzione questa regola di formatazione dovrò trascinarla orizzontalmente quindi quello che ora sto guardando per la colonna M poi dovrà essere applicato per la N per la O per la P e così via quindi nella formula che sto per andare a scrivere non posso bloccare M2 ma la M toglierò il simbolo diciamo del dollaro perché la M dovrà incrementare il suo valore sia dalla M2 ma anche della M3 ora sì che posso chiudere la formula e ovviamente qua non mi segnerà niente ma se ci fosse un valore supponiamo qua un valore 3 vedete che non c'è il valore sotto di conseguenza lui mi sta affermatando la cella come che ci sia un errore ctrl z per annullare lo stesso identico ragionamento poi trascinerò orizzontalmente quello che deve succedere sarà sulla cella che sta qua in basso cioè la quarta questa è sulla seconda timbratura questa è sulla quarta timbratura cioè devo evitare che siano dispari tradotto ancora la formazione condizionale con una nuova regola questa nuova regola usa una formula la formula mi dirà che è uguale quindi è grande aperta tonda poi lo traduci lui in grande cosa deve succedere qua? quindi che questa cella qua su che è la M4 quindi lo scrivo M4 col tasto F4 togliamo il blocco della M deve essere diversa da vuoto punto e virgola seconda condizione che è la M5 che è questa ancora sbloccando la M deve essere uguale a vuoto questo mi scatenerà l'errore cioè il mio formato sarà sempre un riempimento di colore rotto come prima uguale ok ok anche qua stessa cosa io qua metto un valore supponiamo 4 vedete che sotto non trovo un valore mi sta dando un errore ctrl z questa formatazione ovviamente che ho messo su questa cella deve essere stesa su tutto l'intervallo quindi assolutamente qua posso fare una cosa posso o copiare il formato di questa e poi andare a incollarlo su tutti ovviamente su questa riga qua stessa cosa quello che ho scritto qua copia formato lo trasciniamo su tutta la riga ok vediamo se funziona possiamo andare all'ultima posizione vediamo se funziona io supponiamo di aver timbrato l'ingresso 4 vedete non ho timbrato l'uscita mi da un errore ctrl z oppure qua sotto vado a timbrare in qualche modo non ho timbrato l'uscita e mi dà l'errore quindi questo adesso direi che sta funzionando quello che succede è che supponiamo di inserire una nuova timbratura il 710 per Daniele M se io il 710 lo metto qua ad esempio Daniele M il 710 2023 alle ore non ha timbrato un ingresso quindi lui mi dice che esce alle 12 12.01 e 0.0 ok bene sembra che non stia succedendo niente ah ok questo vuole sempre il campo dati sembra che non stia succedendo niente togliamo un attimo su e invece vedete che lui mi ha segnalato un'anomalia mi diceva attenzione immaginate che qua nelle timbrature siamo già passate a 8 ad esempio lui mi ha timbrato un'uscita 12.01 ma io qua ho un'uscita ma non ho un ingresso ok ho sbagliato vuol dire che devo andare a inserire una una timbratura il giorno 7 se vedo che c'è quella delle 12 capisco che lui alle 7 non ha timbrato l'ingresso quindi andrò qua questo lo posso fare in ordine o anche non in ordine ma normalmente succede che seleziono una cella nella colonna tasto destro inserisci vedete mi dice righe sopra la tabella quindi sarebbe bene rispettare poi l'ordine cronologico quindi ad esempio scelgo il 7 in modo tale che mi fa inserire una riga sopra che è non è a metà dei 6 no? del giorno 6 di timbratura quindi tasto destro inserisce ah qua mi fa vedere riga sopra riga sotto diciamo riga sopra la tabella con sempre Daniele M che il 7 10 2023 ha timbrato alle 7 36 e 09 di mattina ora se andiamo a vedere l'anomalia del 7 vedete che è rientrata perché mi ritrovo la timbratura e Daniele M alle 7 36 e 09 l'uscita alle 12 01 vuol dire che lui ha maturato 4 ore di lavoro e che il totale si è aggiornato a 10 ore 46 con un giorno lavorativo in più che ancora come situazione troverò nella parte gestione perché vedete che Daniele M è passato a 10 ore maturate con 3 giorni lavorativi rispetto agli altri che invece sono a 0 diciamo che questo ci permette perlomeno così a grandi linee di dire bene la valutazione c'è qualcosa nella in queste queste colonne qua che non mi piace questo tratto continua però lo modificate voi se non perdo tanto tempo a fare questo quello che voglio fare è andiamo a introdurre a estendere meglio quello che ho fatto per Daniele M ma anche per Michele C anzi Michele C non gli ho messo la formatazione attenzione quindi cosa posso fare facciamo un esempio copia formato vado nella seconda riga che è questa ho messo sia il formato che la formatazione perché se qua metto 3 ok la formatazione non se l'ha presa perfetto allora rimettiamo la formatazione condizionale la formatazione condizionale l'ho presa per tutti si ok qua devo rimettere la formatazione condizionale lo facciamo un attimo insieme nuovamente anche se dovrebbe rendermela in automatico copia formato qua no non me la sta prendendo va bene lo rifacciamo lo stesso lo rifacciamo lo stesso facendo questa volta una selezione di tutta questa riga questa riga voglio applicare una formatazione condizionale con una nuova regola questa nuova regola utilizza una formula per determinare le celle a formatare questa formula mi dirà torniamo all'inizio dove la sto applicando beh lo sto applicando alla cella vedete che è la M9 quindi se la M8 è piena e la M9 è vuota scatenami subito la mia formatazione condizionale rossa quindi abbiamo detto uguale è grande aperta tonda la cella M9 M8 scusate sbloccata la M è diversa quindi minore maggiore di vuoto punte virgola M9 è sblocchiamola ancora la M uguale a perché M8 abbiamo detto M9 ok uguale a vuoto allora dai come il formato colore carattere rossi ok ok la applichiamo se qua metto un valore lui si colora perfetto ctrl z ritorna normale poi vero è che questo dovrà avere un colore come gli altri la stessa etica formatazione la dovrò applicare qua sotto quindi cosa faccio posso pensare di prendere questo copia formato vediamo se questa volta il copia formato mi sta mi da un aiuto copiamo il formato qua sotto ok e a questo punto andiamo a vedere formatazione condizionale se c'è una regola applicata c'è una regola applicata benissimo anzi lui ne ha messo due in realtà questa la posso eliminare e andiamo a modificare questa che è quella che si è trascinato da prima questa regola mi dice tenete conto che io sto lavorando sulla M11 quindi devo verificare che la M10 che la M10 sia diversa da vuoto e che la M11 sia invece uguale a vuoto allora gli applichi questa formatazione applica ok tradotto se io qua dovessi scrivere dei valori qua 3 perfetto qua metto 4 perfetto qua ne metto un altro 2 ma non chiudo diciamo l'uscita o comunque la giornata con le 4 timbrature vedete che mi si accende il campanellino quindi ctrl z ctrl z ctrl z ok dopodiché cosa faccio scusate giusto queste sbavature poi non mi piace ok allora direi che questo sta andando bene proviamo a cambiare una timbratura ancora per Michele C che nella parte gestione Michele C ha fatto due giornate lavorate a 6 ore 21 minuti e 18 secondi di lavoro quindi da ottobre che faccio beh semplicemente per far prima invece di avere qua l'uscita del giorno scusate data in città del giorno 7 di Dianelle M supponiamo di mettere quelle di Michele C faccio molto prima anzi faccio qua Michele C automaticamente vedete che mi tira fuori un errore la stessa situazione di prima mi dà che praticamente Michele C è come che non abbia timbrato l'ingresso ma siccome l'ho tolto dal Dianelle M non mi fa vedere la timbratura dell'uscita quindi sto con un'unica situazione andando a trovare i due casi errati li risolvo ancora facendo in modo che ancora Michele C abbia il suo ingresso e quindi la timbratura di Dianelle M la do ancora a Michele C e a questo punto risolvo sia il problema di Michele C che ha ingresso e uscita ma anche di Dianelle M il cui ingresso non era corrisposto a cui ha dono C morale Michele C adesso ha 4 ore e 24 che se vanno in gestione ancora ci dice Michele ha 3 giorni lavorativi quindi è cresciuto quello di Dianelle è stato passato a Michele e lui ha incrementato il numero di ore lavorative andiamo a verificare velocemente quello che possiamo fare per gli altri quindi che si fa prendiamo la prima formula qua la andiamo a copiare da questa parte qua copiamo tutto ctrl C senza l'uguale attenzione esc la formula deve andare qua bene uguale ctrl V ovviamente non deve insistere su Michele C ma deve andare sul dipendente che ho sotto mano adesso ctrl invio e adesso questa formula la trascino verticalmente qua poi cosa faccio vado a prendere questa formula qua questa ctrl C la posso incoppiare e incollare normalmente qua sotto non succede niente tutte queste 4 le posso trascinare orizzontalmente sembra che stia funzionando andiamo a mettere ancora la formatazione anzi la mettiamo dopo per adesso cosa faccio beh devo decidere chi è il dipendente quindi dopo Daniele M e Michele C qual è il nuovo dipendente beh da controllo il terzo era Luca A quindi andiamo su ottobre e qua aggiungiamo Luca A come metto Luca A automaticamente lui da qua va a prendermi le timbrature di Luca A che in questo caso saranno esattamente le stesse un copia e incolla Daniele M ma allora nel prospetto di gestione per Luca A trovo la stessa situazione Daniele M direi di C quindi questo mi sta dicendo che sta funzionando devo ricordarmi però di mettere qua la formatazione condizionale per tutta questa per tutta questa riga la formatazione condizionale vi ricordo ci deve dire nuova regola facciamo un paio di volte assieme così poi non vi perdete nel trasportare questo su tutto il foglio la sto applicando sulla seconda timbratura che può essere l'ingresso scusate l'uscita mancata quindi qua siamo sulla 15 allora chi dico è grande se la 14 risulta timbrata ricordatevi sbloccare la M ok quindi con F4 risulta timbrata cioè diverso da vuoto punto e virgola cioè contemporaneamente la 15 invece è vuota sempre sbloccando la M quindi uguale a vuoto allora applicagli la formatazione condizionale che è questa rossa ok ok stessa cosa in basso su tutta la riga dove faccio il controllo gli dico formatazione condizionale nuova regola questo purtroppo non si può automatizzare perché sta saltando di alcune righe cioè diventa macchinoso andare a trascinarla a fare chissà quali algoritmi quindi dicevo qua faccio uguale è grande aperta tonda la prima condizione lo sto facendo vedete sulla 16 quindi E16 sbloccata con F4 è diversa da vuoto punto e virgola E17 invece sbloccata con F4 è uguale a vuoto allora applicagli la formatazione con un riempimento lui la applica in teoria dovrebbe funzionare andiamo magari alla fine di tutto vediamo se io metto un ingresso 3 e non metto l'uscita me la sta segnalando CTRL Z se io qua scusate se io qua metto un valore sotto non lo metto mi sta segnalando ancora l'anomalia quindi assolutamente la formula della formatazione condizionale sta funzionando così come avendo trascinato orizzontalmente tutte le altre formule dovrebbero essere corrette facciamo un altro tentativo di diciamo di incremento dei dipendenti quindi dopo l'UCA dovremo avere qua ornella G quindi andiamo su gestione scusate andiamo su ottobre e che facciamo? prendo la prima formula la copio come abbiamo fatto prima CTRL C ESC vado qua in basso dove vuole incollata fatto uguale CTRL V e la formula è quella giusta ma invece di Luca dovrà andare sotto sia una che tutti e due i controlli contro l'invio trascino in basso per 4 mentre la quinta che sarà il totale mi vado a prendere a pie pari CTRL C quello che c'è qua CTRL V ora questi due sì il colore conviene darglielo adesso anzi ce l'ho già selezionato quindi anzi faccio ok le seleziono tutte quante anzi no questa si può fare a ver dovrei mettere il bordo quindi semplicemente metto un bordo spesso così si vede dove il totale in qualche modo si evidenzia tutti gli altri ora trascino orizzontalmente fino alla fine eccoci qua qua le formule ci sono tutte direi di sì bene cosa faccio in questo caso devo applicare la formatazione condizionale alla seconda di tutte di queste righe verdi quindi formatazione condizionale nuova regola abbiamo detto usa una formula uguale è grande aperta tonda torniamo all'inizio per vedere dove siamo siamo sulla M quindi dobbiamo chiedere M20 sbloccata è diversa da V8 è contemporaneamente la mia M21 è sbloccata ovviamente è uguale a virgolette queste cose vi consiglio di farle piano io le sto facendo velocemente probabilmente sto facendo magari qualche disastro nascosto però altrimenti poi gli errori non riusciamo a vederli in maniera molto molto evidente saranno errori abbastanza assurdoli comunque tiriamo giù ancora la formula per questo per questo impiegato quindi formatazione condizionale nuova regola usa una formula che ci dice uguale abbiamo detto è grande aperta tonda stiamo parlando della cella in questo caso 22 M22 sbloccata deve essere diversa da vuoto e contemporaneamente M23 sbloccata dovrà essere uguale a vuoto chiusa tonda formatazione ancora poi colori potete mettere invece che il rosso che è molto evidente potete mettere qualsiasi cosa mi sembra che stia funzionando come faccio a vederlo qua metto un valore sotto diventa rosso perfetto qua metto un valore sotto non lo metto diventa rosso perfetto quello che mi manca per vedere tutto è capire chi è il nuovo dipendente siamo a Ornella G vi faccio notare come in gestione Ornella G al momento è tutto zero adesso come vado a ottobre a scrivere qua Ornella G do invio viene calcolata la sua timbratura e nella parte di gestione vedete che Ornella G inizia a vedere le sue due giornate lavorate con le ore con le ore naturali giusto a fare poi diventa semplice andare a stenderlo su tutto magari se avete difficoltà ne riparliamo però magari lo completerò così la prossima volta avremo un file un po' più corposo su cui lavorare con un po' più di dati quello che posso fare adesso è caricare altri dati magari saltando delle timbrature mi sembra che nel file originale ci fosse qualcosa del genere allora che faccio beh intanto vado su gestione ricarico le timbrature di ottobre ok vado a prenderle dal desktop ricordo di aver lasciato qua il file che si chiama agl001 diciamo che lo importiamo adesso dovrebbe macinare ci da estrazione di tutto perfetto io cosa devo fare a questo punto vado a prendermi tutte queste estrazioni sono di ottobre eccole qua sono 38 quindi ctrl c vado su ottobre al posto di tutte queste voi se volete fate una macro svuotate tutto eccetera eccetera ma io qua dentro faccio un bel ctrl c che mi son perso quindi ritorno in dati ctrl c vado su ottobre ctrl v ecco che qua inizio a vedere praticamente i nuovi dati caricati qua sembrano dei dati che vadano bene su c lì ci sono sempre ingresse e uscite mi sembra che ci siano ingresse e uscite su tutti quindi questo non mi da non mi da praticamente nessun problema quindi per avere dei dati reali cosa posso fare andiamo a caricare pensavo di vedere qualche anomalia adesso ricordavo ci fossero delle anomalie non era quello il file che dovevo andare a prendere ma supponiamo di avere cancelliamo ornella G che il giorno 6 ottobre è uscita alle 13.11 ornella G il 6 ottobre è uscita alle 13.11 posso semplicemente cancellare questo ok lui non trova più chi è la persona e allora su ornella G vedete mi sta dando un'anomalia come faccio a capire di cosa sto parlando dico ah vediamo che giorno è è il 6.10 vedo una timbratura alle 7.36 di mattina non vedo la timbratura di uscita ah ok vuol dire che dovrò inserire una riga qua non la inserisco perché c'è già ma abbiamo detto che ornella G è uscita alle 13.11 26 e qua vedete che la situazione è i servitristi ne ho trovato quello che succederà poi sulla parte gestione sarà che ornella G avrà le sue due ore lavorate e qua avrò poi il risultato praticamente di tutto il mese di ottobre quindi questa parte qua posso ancora se volete enfatizzarle poi chiudo il video con un colore magari un colore abbastanza bruttini ma questa qua dove posso mettere ad esempio tutti i riquadri tutti i bordi eccoci qua e così posso capire che a ottobre che magari poi ci entreremo verticalmente eccetera Daniele M ha fatto 6 ore 17 di lavoro con due giornate lavorate volendo potete fare anche una media delle ore lavorate delle ore lavorate a giornata quindi ad esempio posso fare uguale questo diviso questo e mi dice se lo rappresento in ore che lui mediamente ha lavorato per 3 ore e 08 al giorno insomma però poi le statistiche queste statistiche si possono studiare con calma direi che il video è anche abbastanza lungo ho fatto vedere come fare il prospetto praticamente per un mese lo completterò ve lo farò vedere magari pronto per l'altro video tanto mi vedrete solo fare dei copie e incolla ma la struttura è pressoché identica magari se riusciamo la prossima volta vi faccio vedere come duplicare il mese di ottobre rinominare le tabelle e aggiungere nella mia gestione i mesi magari di novembre dicembre gennaio e così via magari sistemati anche sistemati anche bene direi che per questo video è tutto alla prossima ciao ciao